Finalmente sono partiti i Mocos Sunday Aperitif qui al Mirto Club di Portici, al Porto del Granatello. Io sono Alessandra, queste notte brave, gustatevi le immagini. Il Mirto Club ha questa capacità, siamo di fronte al mare, di fronte abbiamo il Golfo di Napoli con tutte le luci, alle nostre spalle c'è il Vesuvio, uno scelario fantastico, il mare, le stelle, questa è la nuova location che i Mocos hanno scelto per il Mocos Sunday Aperitif. Grazie Mocos per averci regalato un'ulteriore sorpresa di questa location meravigliosa. Sarà la location che ci accompagnerà per tutto il prossimo della stagione estiva. Che dire, il posto è bello sia per la questione dove è posizionato, nel nuovo geografico, il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la costiera e poi i servizi che offriamo, quindi sia area aperitivo dove ogni domenica dalle 19 partiamo con l'aperitivo, con Radio Capri, a seguire abbiamo un po' increscendo la serata musicalmente, cresce un pochettino il ritmo e abbiamo, come dicevo, ogni domenica vari servizi specifici nella domenica come l'area massaggi. Quindi, diciamo, il nostro posto ora da offrire soltanto divertimento, al divertimento ci affianchiamo il benessere. Un saluto da Mocos, un saluto da Stefano, notti brave, Mirto Club. Com'è organizzata qui la struttura di mattina? Allora, la mattina noi siamo aperti tutta la settimana, dal lunedì alla domenica e offriamo anche il buffet. Un saluto a notti brave, buone vacanze, ciao ragazzi! Un saluto a notti brave, buone vacanze, ciao ragazzi!